Salve a tutti ragazzi, qui di GESALVO97 che vi parla in questo tutorial vi spiego come scaricare la EUROTRA SIMULATOR 2 MAPPA TRACK SIM versione 4.7.2 bene, allora innanzitutto dovete andare su questo sito dove il link vi lo lascerò in descrizione e come seconda cosa dobbiamo andare qua giù in fondo in questa area qua e dobbiamo cliccare qua su questo download link della versione 4.7.2 noi clicchiamo qua verrà fatto il caricamento verrà caricata questa pagina che è di BILTY se non ve la carica è perché non avete cambiato il DNS Google quindi dovete andare a vedere il video che ho caricato io oppure altro andiamo qua giù in sotto e andiamo qui su TRACK SIMMAP 4.7.2 download server che ve lo scarica la server oppure potete scaricarlo da uno oppure da questi altri due siti però io per comodità scelgo da questo qua come vedete qua scaricherà tramite Google Chrome vedete è comparso qui e qua ne do download bene non dovrebbe tenerci molto però intanto che scarica io stoppo e continuiamo quando ha finito il download bene eccoci qua di nuovo la mappa è stata scaricata comunque la mappa è qui ce l'ho qua davanti la apriamo la apriamo con Wirral se non avete il programma Wirral vi metto il link in descrizione per scaricare anche Wirral comunque c'è questa cartella noi dobbiamo aprirla dobbiamo selezionare i 4 file SCS e spostarli in computer disco locale C programmi file per 86 dobbiamo andare nella cartella Eurotrasimulator 2 dobbiamo andare in anzi non è qua ho sbagliato io scusatemi e dobbiamo andare in documenti Eurotrasimulator 2 dobbiamo metterle dobbiamo mettere le mod assieme alle altre mod perché sono come delle mod normali e le mettiamo dentro qua aspettate un momentino e non dovrebbe tenersi molto bene ragazzi le mod sono state scaricate sono state messe sulla cartella e mod adesso una volta messe nel mod chiediamo è tutto e avendo anche installata la patch 1.9.2 se non funzionano dovete c'è in pratica dovrete come si dice ci sarà da attivarle qua a lato no? qui a lato quando fate il il caricamento del gioco fate ci saranno le impostazioni andate qui e mettete la spunta per attivare le mappe aggiornate bene per questo è tutto e vi saluto grazie a tutti